e questo è il più basso del più basso Salve! Ciao! Insomma, come si fa questo razzo? Aspetta che mi metto qua, dimmi? Come si fa questo razzo? Come si fa? Allora, bisogna prendere due bottiglie e dai il razzo che facciamo vedere qua Allora, bisogna prendere due bottiglie, no? Allora, una bottiglia si taglia a metà circa e si infila al contrario nell'altra bottiglia Poi si prende un cartoncino e si fa una punta così, giusto qui Dopo si riempie di acqua fino qua, più o meno Si mette un tappo di sughero con un buco che abbiamo già fatto noi e si va lì Si mette il compressore dentro il buco Quando si toglie dal punto il compressore l'aria che è dentro sputa fuori l'acqua in un secondo sputa fuori tutta l'acqua e con questa energia va sopra Bene Lorenzo, più grande la giornata, ragazzi Sta per partire E' da qui Dai, mi siete fatti la doccia Chiudiamo un razzo grande O quelli piccoli Mi siete fatti la doccia Eh, facciamo un razzo grande Dai, rifacciamo un razzo grande Dai, grazie, grazie, grazie